Samu è il del pesce d'oro, oggi 1-0, ottima vittoria, una partita stracombattuta. Bellissima partita, è cominciata un po' in salita per noi, abbiamo avuto un rigore contro, meno male siamo riusciti a prenderlo e poi a pararlo, a pararlo e poi Samu ci ha messo il suo ha fatto il gol del vantaggio. Per ringraziare Nerguk ha avuto quella palla, l'ha sbustata bene, tantissimo fico per l'assist. Con un ginocchio solo ha giocato il grande Mercurio. Poi un altro tappino l'hai preso sulla testa. Eh sì, di faccia, intanto magari c'è anche il tatuaggio. Mi hanno stampato il simbolo nella Nightmare, nel viso. Sì sì, mi volevano brandizzare. E adesso ragazzi, la prossima, la prossima ti metto chi è? La prossima non lo ricordiamo, però è stata una buona vittoria perché loro sono primi in classifica e abbiamo un pochino accorciato il tutto. Ragazzi allora in bocca a loro per le prossime, intanto buona domenica. Viva il lungo. Grazie. Grazie.